... 6, 2, 1, canga! Ah, tu chi cazzo sei? Ah, scarso! Non ti ho trovato, mi stavo preoccupando! Fra chi cazzo sei? Mettiamo che d'altri e quarti ci ho battuto mai più brain! Yeah, e quando vengo poi a calpesta, per torno a fare rap è venuta una tempesta, ma non sono morto, non ho visto manifesto, ma sto cingando a nanzo come a manifesto, come a manifesto, scazzo, chi sta fare o cazzo, come è bellissimo e non ho mai visto di un cazzo che parla, non ho mai visto di un cazzo che parla, non ho mai visto di un cazzo che parla, non ho mai visto di un cazzo che parla. Fatta il popolo in un ricchione, figlio pesce in culo almeno ogni quattro ora. Ogni quattro ora, figlio di puttana, bocca troia, brother, a ripare io ti uccido, cazzo, fra sei grasso, te lo vedo dal viso, quando tu vai a cagare i tuoi si vanno a fare un giro. Mi andiamo qua in un giro e tutto spiego perché non ho mai visto di un cazzo al vicino perché vai a un po' per te a livello di umana, non ne ho mai avuto risp vesto, non ne ho mai avuto. Puoi te, c'è se stai facendo un abbandone? La mia brunica, non è ancora daia, sono un cazzo che almeno in Thailmanio in Terra, la cosa bellissima è il biglietto perché ci gente per il mio stato, in Italia! Onestamente, chissà sono fasi, chissà che non giuppino la nasa, mi state riscendo tutto quanto caso cazzo, voglio maccarone e merda, tengo pure io specchio a casa. Porca troia, brother, tu sei un cesso, infatti con lo specchio a casa se lo rompi, sono sette anni di sfiga per lo specchio. A livello che ha roppo come specchio, questo ha rotto il cerchio, c'è un problema, se ha roppo pota in casa, ma con il topino di mani in due spazio, coppa nasa. Coppa nasa, se si è bevato i tuoi cere, se mai che prendi, non troviamo in orizzontale, e lo giuro, mamma tu, mi chiamo coppa a mai che prendi in orizzontale, mamma tu. Onestamente, ma qua all'orizzontale, ci vediamo all'orizzonte mentre tu mi fai mano. Mamma della puttana a pagamento, e cazzo, a paura, un doppio perché non doppio menta. Infatti, fragilità, porca troia, questo come vuoi che le chiuda, mia madre va a pagamento, tua madre le offerte in chiesa le paga in natura. In natura, e ora metti in risa, amica, a mamma tu non mangiava, ma si mangiava, mangiava in orizzontale, in verticale, in tutte le posizioni, e se mi vota capo pure in obbligo. Mi bevi fra come succo, dalle occhiaie, non sento tutto tra i coca, ma tutto tra i tutto. E' un'altra domanda, calma da, che sono i cigli, se chiun l'hai da un cacchè mamma da, che sono i cigli per fare una quasi una, e tu mamma devi giocare una. Ok! Ragazzi, che ti sono piaciuto un sogno oggi, ho fatto il conto, ti sono felicissimo. Ragazzi, prima cosa, casino al mio tre, perché dopo otto anni di batto non ho trovato il cesto dell'amnesia libero. Uno, due, tre! Ok, passiamo alle comunicazioni. Comunicazione importante al pubblico di Youtube, profondo bell'uomo. No, che cosa vuoi dire? Pubblicità! Pubblicità! Se mi sono piaciuto l'invito, Toto e Mike Brain, casino al mio tre. Uno, due, tre! Se invece mi sono piaciuti i cinque di fiori, e cango in casino al mio tre. Uno, due, tre! La Giulia libera al mio tre. Uno, due, tre! Uno, due, tre! Pareggio! Pareggio! Anche se in realtà la cartella non sono uno. Se scegliedene uno per squadra, tre a caffella e poi cacchè. Scegliedene uno per squadra, tre a caffella. Referendum. Tu, 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 tu. Io vorrei Toto, ma questa cosa a caffella. Scegli tu. Prima mi scelgo tu. Tu, vai. No, come ti senti tu, perché si muoveci più fortemente. No, 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 ma tu ti hai più una leggerità, una novità. Vabbè, io contro Kang. Toto contro Kang! Vai, ragazzi. Arriviamo l'altra parte. Faccio io. Ragazzi, orgoglioso di perdere di nuovo contro Kang. Latti del palla. Ma fa sempre mamma, quando ci parla. Sicuramente, ma tu, porca donna, sei un gatto nero. Dopo l'effetto di un cazzo vero. Però io te lo giuro che tu sei una puttana. Io sto sfidando Toto, l'unico presentatore a forma di gulignana. Onestamente, avrei una tanzana su di tuoglio. Ti ho detto, pesce nulla, ti ha ricordo. Ho fatto il cazzo. Quando ti riempio, non ti fai un catechismo. Ti faccio chiamare pesce nulla, papà Bergoglio. Papà Bergoglio, tu sei ritardato. Io ero così gangsta che il mio prete ero frenzonato. Ah, tu sei un cazzo di coglione. Io facevo i gangsta e che gli picchiavo le suore. Picchiavi le suore. Adesso questo scemo lecca le suore. Il fatto è che torno a casa, mi faccio una pugnetta e poi spero che il cangio poi muore. Il cangio poi muore, pensa che il tumore. Porca troia, brother, io mi faccio la tua tizia. Yeah, sei così un tumore che il dottore ha detto al tuo tumore una brutta notizia. Una brutta notizia. No, fatto zitto. No, non è stato zitto, non è stato zitto appena a cazzo. È finito. Se ti è piaciuto di più, Toto alla mia destra, casino al mio tre. Uno, due, tre. Se ti è piaciuto di più, Kang alla mia sinistra, casino al mio tre. Uno, due, tre. La Giulia che dice, uno, due, tre. Kang. Kang. Le hai battuto quattro volte in tre giorni. KTMV.